Oh Romeo, Romeo! Infostrada fa il 50% di sconto sulle sue offerte. Pazzesco, eh? Questi non sanno recitare! Adesso gli faccio vedere io! Ma dove va? Mike, dove va? Ma quello è amico di Shakespeare, lo conosceva proprio. È stato il primo Romeo, è stato... Rosario! Mike! Ma che ci fai là sopra? 50% di sconto su tutte le offerte fino all'autunno. Mettiti una calzamaglia e vieni su a fare Romeo! E Giulietta chi la fa? Chi ama il 159?